ciao ragazzi sono si benvenuti in questo nuovo video oggi sono qua con il messicano che non ha bisogno di presentazioni lui appena tornato a santo domingo ce l'avete chiesto tanto tanto volete ancora il gas il fuego oggi andiamo a dare un po di fuego qua abbiamo trovato la corda allora quella che devo bacchettare ci tengo a dire che oggi non è la sfida ufficiale quando uscirà sul suo canale oggi diamo un po di gas abbiamo fatto tanti chilometri per trovare una strada chiusa al traffico abbiamo qui f12 big evolution 94 sapete già è il più veloce d'italia e il 300 che frena più d'italia perché doppio disco anche se il messicano devo dire che frena poco comunque non è solo il freno che dopo mi dicono è solo il freno c'è lo scarico c'è da dire che è bella c'è da dire che è bella è chitata però ho specificato che sono qua per divertirci poi la sfida ufficiale uscirà sul suo canale quindi io direi andiamo a dare sto fuego o no andiamo io sono pronto il big evo qua è pronto ora vamo ragazzi ora vamo ragazzi ora vamo ragazzi ora vamo ragazzi Ascaldiamo qua! vai vai a 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 l'80% delle persone che guardano i miei video non è iscritta ma iscrivetevi ragazzi a voi non costa niente e poi almeno butteremo fuori il fuoco quello vero è una mancata di orrospetto cioè iscrivetevi dai grazie datemi fuoco qua sotto fuoco 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 ci tenevo a fare una piccola precisazione mi raccomando ragazzi non imitateci perché noi abbiamo tante esperienze sulle moto e potreste farvi male sapete qual è un'altra cosa molto pericolosa è fare acquisti nel 2024 con tutti i commercianti fuffa che ci sono quindi per questo dovete affidarvi a carvertica ma che cos'è carvertica carvertica è un sito internet dove inserendo targa all'uno di telaio ha una panamica completa della auto moto che stai comprando e adesso ne vediamo un assieme prendiamo come esempio questa bmw m3 dal chilometraggio non risulta nessun problema la linea è tutta lineare non c'è problema nemmeno nello stato finanziario e giuridico ma c'è un problema al danno infatti clicchiamo e possiamo addirittura vedere le foto aprendole vediamo quello che è successo voi praticamente trovate un'auto magari inserzionata perfetta mai incidentata e grazie a carvertica potete trovare la storia della macchina e come avete potuto vedere è tutt'altro che perfetto mi raccomando ragazzi vi lascio qua sopra il mio codice sconto è lo sconto migliore che potete trovare adesso sul mercato con un costo davvero irrisorio potete tutelarvi magari da acquisti sbagliati e continuiamo a dare fuego un'auto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, prova. Vai. Vai, prova. Vai, prova. E' un figato! gas, ne abbiamo andato devo dire però che facevo un po' fatica a stare dietro al 300 il motore è pazzesco, infatti dopo averlo provato per problemi tecnici non ho la clipa caldo ma posso dire che è una moto devastante già di suo, preparata così è una roba quindi freno o non frena sta moto? frena più d'Italia, no è devastante ho fatto una staccata un po' al limite, quasi mi ribalto in avanti quanto cazzo freno pazzesco davvero, mi sono divertito tantissimo grazie ancora al messicano più fuoco d'Italia mi raccomando raga iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace perché qua siamo solo all'inizio assolutamente